In occasione del giubileo straordinario anno santo della misericordia, l'Associazione Cattolica Fazzoletti Rossi vi invita al Giovedì Santo di Ispica, il 24 marzo a partire dalle 11, dalla Basilica di Santa Maria Maggiore, in diretta su Video Mediterraneo, Canale 11, su Sicilia Sat 823 Sky, e in streaming in Mondovisione su videomediterraneo.it